È iniziato l'anno scolastico, problemi per gli studenti, per i pendolari che quotidianamente utilizzano i mezzi della tua per andare a scuola, per spostarsi. Consigliere Pettinari, c'è anche una notizia di qualche ora fa. Sì, una notizia freschissima, proprio questa mattina da questo deposito sono saltate 12 corse, quindi 12 mezzi per guasti tecnici sono rimasti in officina e 12 autisti sono dovuti rimanere in deposito. Quindi voi immaginate se 12 corse scolastiche saltate per la provincia di Pescara significa un disagio enorme per quei tanti ragazzi che sono rimasti a piedi e quindi voi immaginate i genitori devono andare, perdere il lavoro, accompagnarli a scuola quando va bene, Altrimenti prendere l'autobus successivo ed ammassarsi all'interno di un pullman dove superano molto spesso i limiti di portata. E quando si superano i limiti di portata e si parla di sovrappollamento si potrebbe mettere seriamente a rischio anche l'incolumità dei passeggeri. Detto questo abbiamo anche fatto un confronto con una cosa che io chiamo una vergogna di questi giorni, cioè mezzi rotti, mezzi sfasciati che rimangono in officina, quanto va bene escono con spie rosse accese, quindi immaginate anche il disagio per il personale viaggiante e gli autisti e poi di qualche giorno fa la notizia che la tua fa tumbando e affidato un incarico per circa 200 mila euro a una società di comunicazioni per fare comunicazione istituzionale. Quando ci sono circa 100 amministrativi che sono lì in quegli uffici in esubero, 100 amministrativi in esubero, mezzi sfasciati e rotti, si dà un incarico per 200 mila euro a una consulenza esterna per comunicazioni. Io credo che questa non è una priorità, sicuramente la priorità è quella di mettere a posto i mezzi, poi c'è un'elevata evasione e noi chiediamo di riconvertire il personale in esubero negli uffici, portarli i suoi mezzi e fargli fare i verificatori, i controllori. Non solo, abbiamo circa 50-60 mezzi fermi in officina, ma questa situazione non si verifica solo a Pescara, anche nelle altre province della regione Abruzzo, quindi è un fallimento sociale della società di trasporto pubblico regionale. L'appello forte è a chi? Al presidente di regione, che è il capo dell'amministrazione regionale, che esercita il controllo e la vigilanza sulla tua, di risolvere questi problemi. Servono mezzi nuovi, i mezzi non devono più uscire con le spie rosse accese, il personale in esubero va messo sui pullman per fare i verificatori, e il personale viaggianti invece va incrementato perché sono costretti a turni massacranti, anche a rischiare a volte girando con mezzi con le spie rosse accese. Ecco, questo è il quadro, il quadro allarmante è un'amministrazione regionale che, oltre alla sanità, perché i trasporti sono la seconda voce di bilancio dopo la sanità, fa acqua a tutte le parti. E noi ci teniamo per la sicurezza e la salvaguardia degli utenti e dei viaggiatori e del personale viaggiante. Pochi giorni fa però il presidente Marsilio, a proposito della tua, ha detto che con le nostre politiche stiamo salvando l'azienda dal fallimento. Beh, io rispondo che con le loro politiche questa mattina 12 pullman sono rimasti in deposito, 12 autisti sono rimasti in deposito e centinaia e centinaia di ragazzi sono dovuti rimanere in mezzo alla strada. Questa è la risposta della strada, scendesse sulla strada come faccio io ogni giorno e si rendesse conto dei problemi seri dei cittadini.